Grazie a tutti. 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 Doc? Sempre un piacere, Cap. Grazie a tutti. 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 Ci sono... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Jane, e... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dati a tutti. Grazie a tutti. come... come... dolore... a tutti. e... 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 sono... e... non trascurare... e... 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 disattivate la stazione hypercircuit nelle vicinanze. ti faremo vedere il vero potere! ti faremo vedere il vero potere! e... Siamo attestrati per questo! Un altro a terra per Mjolnir! Grazie. Vi vediamo! 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 Una sfida! Mjolnir, tocca a noi! A chi tocca? Un'frodo, ii! Profi! Un'frodo! 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 Sì, sì. Sì! Grazie, Vincent! Ha funzionato. Tio, usi i suoi poteri. Ora sei al sicuro. Taglio la schiava. 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 Versagli più avanti! Versagli più avanti! Versagli più avanti! Versagli più avanti! Non siamo soli! Rilevo un'altra sacca di vibranio corrotto! Versagli più avanti! 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 Mettiamoci alla prova. Ora silenzio. Vuoi sentire dolore? Provala a cameo! Preparatemi! Via libera. Mjolnir! Tocca a noi! Facciamola finita! Andiamo, andiamo! Arriba! Vedetemi che l'avete visto! Impegnativo, ma abbiamo prevalso. Rilevo un'altra sacca di vibranio corrotto. Vedete! 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 горla lalое laleanne a proceder la helico. Vedete τα Basia! Vedete! 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 Vedete... Vedete! Vedete! Grazie a tutti. Grazie. 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 BASTA! Prepararsi a combattere! 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ben fatto. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nel lone Nel lone Nel lone Non ci prenderanno Nel lone Nel lone Nel lone Nel lone Nel lone Distruggete le turbine L'AIM ha mandato delle unità per fermarvi Nel lone Nel lone Nel lone Affronta la tempesta Avete disattivato una turbina Nel lone Ora dovrai combattere Eccellente Turbina distrutta Nel l'AIM ha mandato delle unità per fermarmi Nel lone Nel lone L'AIM avvierà un protocollo di spegnimento se metterà le mani sui terminali. Impediteglielo. È ora di mettersi al lavoro! Un'altra battaglia vinta! 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 Sono nel sistema di sicurezza dell'AIM. Un'altra battaglia vinta! Un'altra battaglia vinta! Un'altra battaglia vinta! Inizio l'accesso. Abbiamo fermato tutti i progetti di Venture Ridge. Per ora! Un'altra battaglia vinta! 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 Grazie a tutti. 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 Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' ora del riposino. Grazie a tutti. Basta a tutti. Bambini, bambini. aiutarmi. Grazie a tutti. Non ha limiti. Non credo che... Grazie a tutti. Noi cerchiamo di prevenire che tutto questo succeda nel nostro tempo. Abbiamo uno scopo. Vera semantica. Sembra che tutti i cattivi inizino con la M. Modok, Monica, Maestro. M, hai notato? Altri problemi? Eliminiamoli! Altri problemi! 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 Grazie a tutti. Il mio potere è inarrestato. Continuiamo così. Anche il tempo mi obbedisce. Guariale Bianca! Attenti agli occhi, gente! Ecco fatto! Andiamo così! Fanno rumore quando cadono! Allora è vero che no! Aia! Deve aver fatto male! Bot futuri, botte future! Ammira la desolazione che mi circonda, Barton! Io vi salverò da essa! Riscrivendo la storia, sai bene quanto sia rischioso! Monica ha fallito! Io non lo farò! No! No! Non lo farò! Non lo farò! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Buonanotte. Non ci fermerete. Plasmeremo il nostro destino. Questo non mi sembra il destino, maestro. È la tempesta di cui parlava Morales. Maestro, arriviamo. E un altro gruppo è andato. Maestro deve essere vicino. Maestro dovrebbe essere lì avanti. Beh, o la va o la spacca. Non ci fermerete. Cavorite. Maestro sta accumulando. Un piccolo passo verso un futuro migliore. Avrò successo dove Monica ha fallito. Hai un altro ponte temporale nascosto da qualche parte? Non ci fermerete. Non ci fermerete. Beh, qual è il virus? Non ci fermerete. Non siρά. Non ci fermerete. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Glint non può più combattere. Qualcuno mi rimette in sesto! 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 Sono nei guai qui! Ah! Mi sento uno schifo! Grazie! Eh, soffia! Unire col fischi! Non sopporterò un altro colpo! Non ti distrape! Questa è la mia faccia! Non ti sento in gran forma! L'hai voluto tu! Si spengono le luci! Non ti sento in gran forma! Tu tenti? Non ti sento in gran forma! Non ti sento in gran forma! Si spengono le luci! Non ti sento in gran forma! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E salutiamo il quasi viaggiatore del tempo maestro. Sì, sarebbe stato pericoloso. Ok, torniamo a casa prima di incasinare qualcosa. Ho sentito l'agente Morales. Le rilevazioni tachioniche sono stabili. Un'altra anomalia temporale sistemata. Ottimo lavoro, gente. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.